Il clan Fabrocino continua ad operare nel territorio nulano tramite il nuovo reggente, omonimo e parente del defunto boss Mario. E l'accusa contenuta in un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli e notificato a sei persone dagli agenti della Polizia di Stato su delega della locale DDA, alle quali viene contestato di appartenere al clan Vesuviano. Nel corso delle indagini, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno raccolto elementi che hanno portato alle accusi di oggi e ricostruito una tentata estorsione nel 2019 ad una ditta che stava effettuando lavori stradali a San Gennaro Vesuviano e di documentare la disponibilità di armi comuni da sparo e da guerra da parte di due detenuti, secondo gli inquirenti, per conto del clan camorristico.